In attesa che vengano ascoltate, dopo Franco Alfieri, anche le altre cinque persone indagate nell'ambito dell'inchiesta che ha portato all'arresto in carcere di Alfieri, perturbata libertà degli incanti e corruzione, il Partito Democratico si è riunito presso la sede provinciale in via Manso a Salerno. Il sindaco di Capaccio Pestum e presidente della provincia di Salerno è stato sospeso dai suoi incarichi, così come dall'anagrafe del PD, una decisione deliberata dalla Commissione Provinciale di Garanzia nel giorno in cui è scattato l'arresto lo scorso giovedì sulla base delle regole interne del partito ed in relazione alla gravità dei reati contestati. Intanto, come detto, nella giornata di ieri il segretario provinciale Enzo Luciano e il deputato Piero De Luca hanno incontrato i consiglieri provinciali, l'incontro a pochi giorni dall'arresto e soprattutto nel giorno dell'interrogatorio di Garanzia di Alfieri, l'occasione per ribadire piena fiducia nell'operato della magistratura, esattamente come fatto lo scorso giovedì nel giorno della sospensione dal PD, oltre che ribadire poi l'impegno di tutti per garantire la continuità dell'azione amministrativa dell'ente provinciale nell'interesse di tutti i cittadini e quanto si legge nella nota firma del capogruppo consigliare del PD e sindaco di Pellezzano, Francesco Morra. La provincia va avanti con Giovanni Guzzo lavorare in maniera collegiale con il vicepresidente, quanto ancora è stato ribadito nella riunione di ieri. Guzzo infatti incontrerà questo mercoledì i consiglieri, stessa giornata in cui saranno anche ascoltati gli altri cinque indagati, ora i domiciliari e quindi Elvira Alfieri, legale rappresentante dell'Alfieri Impianti SRL, Andrea Campanile, dipendente del Comune di Capaccio e membro dello staff del sindaco, Carmine Greco, responsabile del Comune di Capaccio Pestum ed infine Vittorio De Rosa e Alfonso Dauria, legale rappresentante e procuratore speciale della Dervit S.P.A., ditta giudicataria dell'appalto per gli interventi di adeguamento, ampliamento e efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione della Comune, procedimenti che sono oggetto dell'inchiesta. Le dichiarazioni dei cinque saranno importanti anche alla luce di quelle rese ieri nel corso dell'interrogatorio di garanzia da Alfieri dinanzi al GIP Valeria Campanile e al PM Alessandro Di Vico, difeso dagli avvocati Agostino De Caro e Domenico Antonio D'Alessandro, nelle quasi due ore di interrogatorio Alfieri ha risposto alle domande, non sottraendosi ma anzi intenzionato a dimostrare la propria straneità ai fatti, sulla base infatti delle risposte degli altri indagati, il giudice potrebbe pronunciarsi o meno rispetto all'attenuazione della misura cautelare cui Alfieri è sottoposto.